Un grave errore commesso di nuovo dal consigliere Di Matteo che presideva la seconda commissione. A dieci mesi da quel blitz, durante la legge di stabilità 2024, oggi in commissione, la maggioranza di centrodestra ha respinto ogni proposta che arriva dal territorio. Dal comune, dalla provincia di Teramo, dal comune di Roseto, dalle oltre 300 associazioni, dalle tantissime migliaia di firme che sono state raccolte per ripristinare il perimetro originario della riserva del Borsaccio, cioè oltre 1.100 ettri di riserva. Purtroppo questa maggioranza di centrodestra, nonostante fosse stata bocciata anche dal suo stesso governo circa quella legittimità di quella legge, oggi hanno continuato a non ascoltare il territorio e portare avanti solo il progetto di legge previsto dalla Giunta regionale che riparte dai soli 24 ettri della riserva del Borsaccio. Chiediamo che venga ristabilita nella sua interezza la riserva del Borsaccio, cioè nei 1.100 ettari, e contestualmente venga approvato definitivamente il PAN, il piano di assetto naturalistico, che è stato oggetto di un lungo lavoro che è stato fatto di concerto tra l'amministrazione comunale e gli uffici della Regione preposti all'ambiente. Questa è la proposta che abbiamo fatto come Consiglio Comunale e che abbiamo presentato anche questa mattina e dall'altra parte invece la maggioranza ritiene che la legge vada rivista solo cambiando il termine provvisorio in quella dimensione attuale e poi fare una commissione paesaggistica per verificarne le eventuali dimensioni future. Noi diciamo che questa possibilità ci può essere, ma non si può prescindere per il momento per dare piena attuazione e per rendere attuale, vivibile e anche tutti gli strumenti attuativi della riserva in pieno vigore, bisogna proseguire con l'approvazione definitiva del piano di assetto naturalistico e quindi annullare la legge regionale che ha rideterminato in 25 ettari le dimensioni. Dopodiché c'è la possibilità di aprire un confronto con i rappresentanti territoriali, i rappresentanti ambientali e quant'altro per cercare di trovare una soluzione che possa essere condivisa nelle dimensioni da tutti, nell'interesse della città, nell'interesse degli operatori, nell'interesse anche della collettività regionale.